musica musica devi far finta di scoprire una cesta così a caso ok salve a tutti ragazzi benvenuti in questo ioissimo pre video oh mio tio ho trovato una cesta c'è dentro una mappa che che hai robato l'altra roba ah è mia la mappa musica 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 dark shadow in mezzo ok diamon vieni sull'albero e badite ragazzi io sono dark shadow oggi siamo qua in qualsiasimo video oggi siamo qua con una nuova serie incredibile siamo su minecraft se non si era ancora notato e questa è la serie io ho deciso di andare dal nonno eh 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 io ho deciso è la mamma che ha deciso eh dai emozzi va bene va bene nonno eh figa del nonno andate vabbè allora taglia taglia no 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 vabbè eh da questa cavità sull'albero eh vi posso dire che questa si chiamerà la lezzocraft infatti la faremo con appunto i lezzi come quello la che sta salutando sopra l'albero accattando alberi che è fairy wave 66 poi c'è diamon e poi ci sarebbe anche adx 0595 solo che in questo momento lui sta mangiando e quindi non può solo che in questo momento il prefisso non è disponibile e quindi non può eh si infatti comunque siamo tornati dalle vacanze adesso faremo dei video ah si come vi vedete è una se eh si più o meno è un setup diverso da prima ah hai video su youtube si faccio vedere su youtube davvero hai un canale davvero davvero ehm e da questa prima c'era il monitor da questa parte e adesso invece sono girato da questa parte perchè come avevo detto negli scorsi vlog sto rifacendo il setup e non è neanche ancora finito quindi forse poi mi rivedrete di qua perchè sposterò tutto di qua perchè è triple monitor ma chi ti vuole vedere ma togli quello schifo di web si va bene ehm intanto i lezzi mi stanno sorclassando sono andati avanti barboni ah giustamente se vi chiedete perchè siamo su x su minecraft xbox one perchè freewave non ha un computer e quindi dobbiamo giocare su xbox perchè può va bene anche diamond c'è per questo è vero quel computer diamonds è diciamo è inesistente è esiste ma è inesistente eh l'ho chiamato eh l'ho chiamato eh l'ho chiamato eh l'ho chiamato l'ho chiamato si 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 tutto bene raga ho trovato il carbone rumori occulti si l'unico carbone l'unico carbone che trovi è quello che spali quando vai a scuola semmai è quello che si spalla per metterlo nel computer di Ale uh dark oak attenzione ma dai a mozzo si dark oak si dark oak eh 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 son gusti raga sta venendo già notte io ce l'ho letto pezzenti che cazzo sei già un cheater barbone eh vado avanti nel gioco vabbè ma tu devi andare avanti insieme a noi non puoi fare quel caso che vuoi sennò non è una serie devi far vedere che che è pro a a a giocare a minecraft a minecraft a fare i miei a fare i detti voglio il cibo barbone che ha rubato la cesta bonus te lo scordi l'unico panino che ho è mio nooo quanto fa schifo sto mondo pieno di montagne brutte grulle montagne grulle e non ha colto i buoni frutti oh pianura pianura cos'è una parola del dizionario lezzo lezzo lezzia darciodiano è una parola è la pianura la pianura si la pianura ovvio si la pianura via spacca questo blocco di cobblestone cioè il piccone si e spacca questo se no non posso passare il mio rock rock in chiuso per sempre vabbè viva i buchi nelle montagne si se ti levita però abbiamo una casa pi ma io non ho fatto niente mi ho fatto cadere è stupido nooo e vabbè e mo non c'ho più niente però volevo girare la montagna perchè c'è la mia roba no? e quindi allora ah ma quello rosso è diamonds ma diamonds è lontano barbone di merda che barbone di merda se ti dai dopo il giorno dopo lo raggiungiamo tranquillo si e adesso stiamo facendo la la piccola casa nella montagna ma non c'è la mia roba come non c'è guarda e se è qua la tua roba qui sopra vediamo un free wave seguito da due ragni e uno scheletro che lo stanno massacrando amabilmente noi ci vediamo lo spettacolo da quassù guarda 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 che scava un buco e tappa con la cobblestone diciamo che io adesso non so cosa fare perchè eh ma io non c'ho niente c'ho due pezzi di terra no tre pezzi di terra e due pezzi di cobblestone schifo non c'ho non ho legno ragazzi non posso fare niente sono chiuso qua dentro Gianlu se vuoi raggiungimi ma e come faccio? ehi buttati e ti scavo il bucchetto sopra buttati che è morbido provo a centrare il laghetto d'acqua allora lo vedi? uuuuh c'è voi non capite è bello schifo schifo sto aggirando la montagna come farebbe un vero free wave 66 vabbè rai io mi faccio la casa sull'isola non fa niente l'isolano diamond si esatto come no perchè voi voi iscritti non lo sapete ma noi abbiamo fatto in quest'estate qua mentre noi facciamo un cazzo si ho degli iscritti facevamo un un mondo abbiamo fatto un mondo che magari ve lo farei vedere con i tsp ah ma hai giuro di una si e no è appena tramontato cioè è appena albiggiato eh praticamente abbiamo fatto sto mondo qua in cui diamond si è fatto una casa che era grande come l'isola perchè l'abbiamo buttato fuori diciamo che era un arcipelago e chi conquistava prima l'arcipelago era figo e praticamente si crede dai monse era isolato sull'isola che sarà cosiddetta da solo poi se io in sardegna quest'anno però sono te in sardegna ho trovato una casa come la sua diciamo che fa ridere e quindi se dai monse adesso si fa la casa sull'isola eh ma però la mappa non ce l'abbiamo la mappa si guarda è qua la mappa grande tipo andiamo dal signor oh altre zucche eh ma è uscita dalla mappa vabbè andiamo di qua vediamo se lo troviamo oh oh un suino un suino vieni qua un suino un suino hai il carbone giallù ho 24 pezzi di carbone e dammeli dammeli che ti faccio la fornace e mangiamo yeeeeeee carbone io raccolgo il legno questa non ce l'abbiamo una cotoletta a testa eh una cotoletta a testa eh una cotoletta a testa eh ci dobbiamo suddividere il cibo fatevi il letto va fare le razioni non abbiamo lana no si un pezzo prendi un po' di sta roba intanto raccolgo legno che ne siamo a corto c'è carenza di legno c'è carenza di legno c'è carenza di legno ok è pronto eh si però dai monse se n'è andato è pronto venga venga le servo il cibo venghi 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 ecco freewave professione passione ristoratore esatto io farò il cuoco eccolo ma perché tu hai la spada di ferro o è di pietra è di ferro è di ferro è di pietra quella schifezza si schifezza mi insultare la mia si è una schifezza unica arma di difesa oh la 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 lava dei funghi l'isola dei funghi cadamon ha saltato senza raccogliere ne hai con fungo assolutamente dubbido Che barbara Possiamo farci le zuppette Non te ne sei reso conto? No, non ce l'ho voglia Andiamo avanti Un pollo, un pollo Oh, un suino, un suino Un suino Prendi il suino, anzi, anche le mucche, vai La mucca, la mucca, prendi la mucca Mucca, 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 mucca Oh, là c'ha il trocarbone, aspetta che lo prendo Vai, vai, carbone, carbone Dai che diventiamo più ricchi di Diamonds C'è già l'inventario pieno Mamma mia Questi pieno di terra Fango Pieno di fango Fatti faccio Ghiango E una gigantesca ghianda Ok, non c'ho più sbatti, andiamo via Grazie a tutti